vi assicuro che non comprendo un certo snobismo verso l'europa league che è una competizione che a me invece piace tantissimo anche nel caotico esterminato carnevale della sua fase a gironi un vero e proprio baccanale fra protagonisti surreali partite che sembrano non avere senso e invece ne hanno è come un giro verso gli avamposti del calcio europeo che presenta situazioni magari non memorabili dal punto di vista del livello calcistico però anche momenti che meritano assolutamente di essere vissuti e se voi snobate l'europa league vi siete persi probabilmente quello che rischia di essere uno dei gol più belli della stagione il gol segnato da elton a colazze dell'apo elber sheva nell'ultimo turno contro il bayern leverkusen chi è elton a colazze è un 25enne olandese nato ad amsterdam da genitori ghanesi che sembrava una bella promessa del vivaio dell'ajax è stato anche campione europeo under 17 nel 2012 con l'olanda segnando anche un rigore nella serie decisiva nella finale contro la germania di gorezka poi però le cose sono andate un pochino diversamente non ha mai debuttato nell'ajax è andato a giocare in belgio e lì non è riuscito ad imporsi tant'è che all'inizio del 2020 a colazze è finito in israele preso prima in prestito e poi in via definitiva dalla poel berceva ancora oggi a colazze non ha segnato un gol un singolo gol nel campionato israeliano ma in questa stagione ha conosciuto l'europa league è andato in rete nei turni preliminari contro il motherwell si è presentato alla fase a gironi segnando un'incredibile doppietta in tre minuti regalando la sua squadra la vittoria storica contro lo slavia praga ma la cosa grossa l'ha combinata contro il bayern leverkusen il gol è stato un gol quasi maradoniano quasi alla messi anche se lui è un giocatore anche dalle caratteristiche fisiche completamente diverse lungo longilineo un po di noccolato non molto aggraziato però su una sponda disperata di un compagno dalla linea laterale ha controllato di tacco al volo a quasi un metro di altezza controllo a seguire si è lanciato ha lasciato per terra dragovic sulla progressione ha mandato lungo ta sulla sterzata ha seduto il portiere radetzky sul dribbling orizzontale e poi ha incrociato il sinistro vanificando anche il tentativo di ritorno dei difensori del bayern leverkusen sulla linea di porta la poi il bercemo ha perso 4 a 2 però la colazze ha segnato un gol incredibile uno dei più bei gol della stagione e questo per dirvi che la fase gironi di europa league è un mondo variegato che merita sempre tantissime attenzioni